Se ti dicessi in questo momento che una ragazza più o meno di 40 anni ha perso 12 chili, ok, in un tempo veramente molto stretto, continuando letteralmente a non riuscire a finire il piatto, continuando letteralmente a mangiare carboidrati. So che è un qualcosa di totalmente opposto a tutto quello che là fuori ti impartiscono, però nessuno può mantenere le promesse. Nulla cambia e se continuerai a fare le stesse cose avrai sempre gli stessi risultati. Quindi da una parte appunto abbiamo persone che ti dicono di smettere di mangiare i carboidrati, dall'altra parte sono io che non voglio convincerti di nulla, voglio farti ascoltare quello che ti dirà Marianna e farti capire che può essere letteralmente diverso quello che è il tuo futuro a patto che tu veramente riesca a capire che probabilmente là fuori ti hanno semplicemente ingannato. Quindi voglio che tu in questo momento trasformi questo tuo senso di rabbia nel senso di ribalsa ascoltando le parole della mia studentessa Marianna. Eccoci qua Marianna, allora, intanto mi fa molto piacere che tu sia qui, mi fa piacere il fatto che tu sia ovviamente la compagna di Andrea, parliamo sempre di carboidrati, no? Perché con due ovviamente abbiamo capito che anche il menage familiare migliora. Intanto già però parliamo di te, che risultati hai avuto nel mio percorso in questo momento? Intanto da quanto tempo ci sei? Sono ad agosto che sono qua, fino adesso ho perso più o meno 11 kg, tra 11 e 12 kg. Quindi l'hai battuto, perché, aspetta calmo, lui è arrivato a marzo e in 11 mesi ne hai persi 12, tu in 8 mesi ne hai persi 11-12, quindi hai vinto tu fondamentalmente. Sì, per fatti ce l'ha da dare in corso. Ah, ok, adesso stare... Ok, ottimo, ottimo. Ora, a parte degli scherti, racconta un po' questa tua esperienza, cosa ti ha portato in un percorso online? Perché anche lui mi aveva detto che avevate provato veramente un sacco di cose. Mi ha portato proprio tantissimo, poi ho visto Andrea, mio marito, con il suo percorso, e ho detto, ma adesso mi provo a buttare anch'io in questo percorso, perché dopo tutti i fallimenti precedenti, ho voluto provare. Ok. Sto avendo ottimi risultati. Quindi, fondamentalmente, cos'è che ti ha convinto? Ho fatto proprio la sua vittoria, quando ho visto che i carboidrati li aiutavano a farlo dimagrire, diciamo, che ti hanno fatto accelerare anche verso questa situazione. Sì, molto. Racconta magari qualche episodio precedente. Tu adesso fuori camera mi raccontavi, no, di questa dieta fantomatica del gruppo sanguigno, no? Racconta un po' questa tua esperienza. Mi hanno dato questa dieta del gruppo sanguigno, che mi hanno dato cose stranissime da mangiare, oltre alla quinoa, tutte. Ok. Tu lo spiegheremo, perché la quinoa... Ma cose proprio che... introvabili anche. E poi dopo, a un certo punto, quando è arrivato più o meno al periodo estivo, mi hanno tolto completamente tutto, e ho detto, cosa devo mangiare adesso? Ho guardato Andrea e ho detto, io smetto. Ma cose improponibili. Cose magari, perché no, spendevi anche molto di più, forse, per... Ah, cifre... È normale, è normale. Il discorso è questo. Spesso le persone non capiscono che il dimagrimento, cioè non è qualcosa di impossibile, è anche automatico. o semplicemente bisogna che qualcuno però vi dica come giustamente fare, no? Poi, com'è stato l'approccio col mio percorso online? Intanto, ti sei sentita seguita? Questa è una cosa che mi interessa molto. Sì, mi sono subito seguita dall'inizio. Ok. Per qualsiasi cosa, chiamo voi un messaggio, subito risultati. Anche di domenica? Sì. Festa, non festa, perché è anche successo. Ok, bene. Sempre. Questo sono contento. 24 ore su 24. Ok. E 7 giorni su 7. Questo sono molto contento. Quando hai visto... A parte che tu, vabbè, già vedevi le diete di Andrea, ok. Però quando tu hai visto che comunque la tua dieta era diversa, prima cosa, poi capiremo il perché. Seconda cosa, hai capito che c'erano i carboidrati presenti, no? Qual è stato, anche seppur avevi comunque la sua testimonianza positiva, avevi ancora una dose di scetticismo? Qual è che sei stata veramente contenta di dire cacchio, ma la bilancia si muove? Ricordi un po' quel giorno? Ma già dalla stessa settimana. Dopo una settimana avevo già perso quel chilo e mezzo, due chili, mentre prima ci volevano mesi. Ok. Prima anche di perché perdevo solo un chilo. Ok. Invece in una settimana perdere uno o due chili... E peraltro dà molta fiducia, no? Perché dici, ok, faccio qualcosa di nuovo, faccio qualcosa di diverso, però almeno l'ago si muove, no? E com'è migliorato anche il tuo umore? Perché tu sei una donna, ovviamente, non sei un uomo, tutte le donne hanno un po' il loro, giustamente, il loro periodo particolare, no? Quindi quanto cambia anche l'umore, è sempre colpa di Andrea in quei giorni lì, però quanto cambia l'umore quando hai carboidrati presenti? Cioè, avendo questa stabilità glicemica, no? Tantissimo. Racconta magari questa cosa perché secondo me molte donne hanno questo tipo di problematica. No, proprio tanto con i carboidrati, prima avevo anche quando in quel periodo lì avevo sempre voglia di roba salata, dolce, adesso invece non ce l'ho più. Ottimo, ottimo. Quindi, da una parte, visto che l'ago andava verso sinistra, hai cambiato il tuo guarderoba, è stata costretta, come dico io. Sì, come adesso questi pantaloni ho comprati due settimane fa, l'ho messi oggi, già mi stanno po' larghi. Quindi, se volete essere costretti a spendere troppo di vestiario, venite nel percorso, perché ho già capito che... Ok, quindi, ma quanto vale, no? Cioè, perché tu sai che io mi approccio con tante ragazze e quando la donna supera i 30, c'è come se arrivasse a una pressione sociale talmente grande che dice, non mi posso più meritare di vedermi in un certo modo, perché non sono più ragazzina, quindi dovrei pensare a cose serie, come se proprio benessere non lo fosse. Quindi, com'è invece a vedersi con 11-12 kg in meno? Cioè, quanto cambia anche proprio nella vita di una donna? Tantissimo. Adesso mi guardo sempre allo specchio, mentre prima lo specchio era proprio tabù. Ok. E proprio, hai avuto già, non so, tipo, delle colleghe, delle amiche, degli amici, qualcuno che ti comincia a dire, ah, però Mariana, ma che cosa stai facendo? Fino a questa settimana mi ha fermato una signora lì al lavoro. Ok, era un signore? No, una signora. Visto che c'è Andrea presente, diciamo... No, ma glielo dirlo, glielo raccontato. Sto scherzando. Anche i signori, anche i ragazzi, perché da noi ce ne sono ragazzi, ragazzi, un po' di tutta l'età. Ok. Mi hanno proprio fermato chiedendomi cosa stavo facendo, facendomi i complimenti, e la prima cosa mi hanno detto, tu sei dimagrita ma non mangiando i carboidrati, hai tolto i carboidrati, hai tolto qualsiasi pane, pasta, e ho detto, no, veramente, mangio su cinque pasti, te o meno quattro pasti sono che i carboidrati. No, mi hanno detto, non è vero. E ho detto, no, è molto vero. Ti sei resa conto che, perché io spesso dico che fare il mio lavoro è difficile, perché io dicendo il contrario di quello che dicono gli altri, devo convincerti due volte. Una di quello che dico, due di farti entrare. Ti sei sentita un po' frustrata, quando tu dicevi, no, io li mangio, perché non mi credi? Perché io spesso mi sento frustrato, dicendo la verità. Non so se tu ti sei sentita frustrata in dire, no, guarda che cacchio, li mangio questi carboidrati. Quindi, cioè, che voglia di... Cioè, che emozione hai sentito quando loro non ti credevano su questa cosa? Non mi interessava, perché vedevo i risultati su di me. Ok. E è vero che, questo te lo chiedo proprio da uomo a donna, è vero che una donna si sente quasi in colpa quando vuole di più dopo una certa età, che può essere anche 25-30 anni. Cioè, quindi racconta magari questa cosa. È cambiata un po' la tua percezione della realtà su questa situazione? Io prima non pensavo di arrivare a certi obiettivi e non mi dava anche altri obiettivi. Dicevo, ma, vado bene così, ormai ho una certa età. Sì, che tra l'altro, cioè, nel senso, sei anche giovane, quindi nel senso, abbiamo 80 anni. E invece adesso ho già trovato, cioè, oltre a questo mio primo obiettivo che sono arrivata, di perdere quasi 12 chini, ne voglio perdere altri e altrettanti entro poco. Questa è una gran bella cosa, più che altro è un obiettivo bello importante, no? Un anno fa, che noi neanche ci conoscevamo, no? Oggi stiamo girando che è il 6 di febbraio, tu non sapevi proprio chi fosse Filippo Rispoli. Tornassi indietro di un anno, pensieresti di perdere a questo punto 24 kg. Se io venissi da quella Marianna di un anno fa e dicesse io ti farò perdere 24 kg totali senza togliere i carboidrati, tu cosa facevi? Mi sparavi? Cosa mi dicevi? Non ci avrei creduto. Ok. Invece se tornassi indietro nel tempo lo rifarei prima. E soprattutto, dal momento che andrei entratto a marzo e tu sei entrata a aprile e maggio, quattro mesi dopo, aspetteresti quei quattro mesi o entreresti subito? Entrerai subito. E quindi cosa vuoi dire a tutte quelle persone che continuano a guardare essendo completamente intimorite perché magari risulta arrogante, dispotico, stronzo, forse un po' anche lo sono. Però, anzi, qual è la tua opinione in merito? La verità? No, non la penso. Una cosa che ho anche sempre detto ad Andrea, ma lui dice così, le gentili, ma io non trovo questo... lo trovo tranquillo, normale, timido. L'ho pagata, l'ho pagata per dire queste cose, mi fa molto piacere. E quindi diciamo che, cosa vorresti dire a una donna magari che è là fuori, dice cavolo, provate di tutto, un po' di fai da te, un po' di frullatini, un po' di diete, buttate un po' a caso, anche perché, dopo ti vuole fare anche un'altra domanda, cosa vorresti dire appunto a queste persone? Di provare e di entrare che avrebbero dei risultati veramente meravigliosi che non ci crederebbero neanche. Quindi diciamo che, possiamo anche dire, questo te lo chiedo, non lo so, mi espongo anche perché non l'abbiamo provata. Nei tuoi periodi particolari prendi molto peso adesso rispetto a prima e è diminuita un po' questa cosa? Non prendo peso. Zero? Zero. Ok. Che risposta ti sei data su questa cosa tu? All'inizio mi sembrava strano, mentre prima almeno tre chili in più le prendevo. Ok. E invece adesso no. Perché prima non l'ho detto con Andrea, ovviamente cosa è successo? Abbiamo aumentato il metabolismo e soprattutto abbiamo reso più efficaci ed efficienti quelli che sono i tuoi muscoli. Ora, tutti i carboidrati che tu assumi non vanno all'esterno del muscolo, bensì vanno all'interno, quindi ti rendono in teoria più magra e più tonica mangiando appunto quelli che sono i carboidrati. quindi dimmi tu, concludi tu questa video intervista di qualunque cosa a quelle persone che là fuori ti stanno guardando e che magari, non so, hanno avuto come te una dieta completamente identica a quella del tuo compagno da qualche nutrizionista. Cosa vorresti dire in merito a questo? Proprio di buttarsi e di entrare in questo grandissimo percorso. Questo mi fa veramente molto molto piacere. Quindi ragazzi, vedete che la cosa che a me piace è la spontaneità, quindi non è nulla di preparato ovviamente. Insomma, seguite l'esempio positivo di Marianna e cambiate appunto quella che è la vostra vita trasformando quella che è la vostra esistenza senza che il corpo ovviamente sia più un problema. Grazie a tutti. Grazie a tutti.